Oggi faremo squad con il libro, raga, non mi hanno riuscito un titolo, ma l'ho modificato, in un certo senso, poi lo vedranno nel video. Ma perché Fallu sta andando al magazzino? Che te frega? Ma noi sono qua a casa del foglio. E sta una persona. Perché voglio morire? Io vado con Fallu. Che bella sta musica, oh! Ma ma qua non pensavo, è una serie, un attimo. Fallu da te c'è il silenzio. E' da me, sì. Oh, caccio. Ma venite da me, è venita a me, non so niente, famiglia. No, no, attimo. E' brutta sta cosa che chiediamo le misi, eh. E' un m'hanno ucciso, infatti. E' di quello, non mi faccio. Non ho male che era qua. Niente. Ma come te stai? E' da me, non mi fai. D'ora, è una partita andata. Dove sta? Tu non mi hai visto. E' quella sera. Aspetta. Qua. Che non ha messo un po' a caso. tra crocevia del ciappone, materiale e quartiere. Vabbè, è anche la donna del corso, devo fare quello che potevo. Eh, ragazzi, mi sa che ho messo bene il titolo? No, prendi benissimo, lo prendi benissimo, lo prendi benissimo, lo prendi benissimo, lo so, eh? Sì. Sì. Non, ma non si no, ragazzi, pensi che non mi siano, non mi sanno, non mi sanno, non mi sanno, è così. Non si no, non si no, non si no, non si no, è così. Det è una fissa fai. Hai a te. ho fatto una cacchiata ecco che culo ragazzi non fate il grasso che sto stando sul letto lo cacchio no ma è le luci mia madre ha parlato oh adesso se tu arrivi a 15 iscritti mamma mia 15 iscritti sono tantissimi io faccio una partita dove mi dovete comandare e gioco da in gioco a 15 iscritti io non mi scrivo io non mi scrivo perché sono a cavolo ragazzi andiamo tutti a peseria andiamo tutti qua ma fai una adesso dove va con culo vede con ma una persona ragazzi a ragazzi a questo punto io vado sul canale di alen mi iscrivo che è il canale di alen mi iscritti ma se spiega dal video sai che ti dico ma fa lui e jimbo se non si stanno zitti che mi fanno il cacchiato e spero che dal video è impossibile si stanno zitti che mi fanno la voce jimbo c'è uno dietro di te guarda la mia bella no 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 bimbo 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 samuel di vita bimbo bimbo cattivo bimbo cattivo c'era che non l'hai visto ho le vende ho le 5 vende per samuel no dai dammelo 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 perché si io non c'ho un'arma grazie ma lasciate gli altri con molti le sono divisi come se eravano divisi noi figo ho un medicozzo a me mi serve il medico eh io sono 24 non è che meglio si è meglio Samu ti passo un regalino Samu ti passo un regalino Questo vabbè se io prendo il cimbo mamma c'è la scappa ma io non trovo le stelle dove stanno le stelle ecco la scuola ecco la scuola ecco l'ho fatto eh raga però a me mi servono band e medio questo ah raga queste le mi piace un sacco perchè ti fanno giova dalle asmi no il popper mio il popper mio a cappa eh no un attimo ma a cappa finisco questa partita finisco questa partita per favore è quasi finita guarda siamo rimasti pochissimi a me si si ma siamo rimasti pochissimi eh col piede mi servirebbe non cambiare se il clino fosse te li posso dare no quanto li posso dare quanto li posso dare ha detto ah vabbè prendo l'idea come stella a me mi servono col piede raga quanto è raga quanto è raga io sto a cerco leggendario raga io sto a cerco leggendario raga c'è una stella lì ma ho messo proprio posizione così come stella lì come stella lì come stella lì come stella lì andiamo andiamo raga mia pensi qualsiasi HP raga io penso qualsiasi HP io devo andare a prendere cure qualcuno ha una migaglietta qualcuno ha una migaglietta qualcuno ha una migaglietta grazie è leggendaria mhm ma che è sta la migaglietta leggendaria ma che è stella lì mi ha una giampa ma la cosa l'hanno messa la migaglietta leggendaria ma la cosa l'hanno messa la migaglietta leggendaria l'hanno rimessa da un botto ma la cosa l'hanno messa la migaglietta leggendaria l'ho assurato ho una giampa raga mi servono colpere va ho una giampa e ce ne andiamo vai andiamo uh uh grande fallume hai fatto fare la missione si l'ho fatta l'ho ho una giampa andiamo mi pucciamo siamo venuti tiriamo ora no no se mi sassasse fermo vai raga sparate oddio morto quello praticamente morto da dietro c'è anche dietro no guarda non ammazzo e neanche vita è bianco e regalo ma questo qua è bianchissimo lo sta eh lo sa è quello che sta a cercare è quello che sta a cercare no se lo è dietro se lo è dietro dai lo so ma non ce la faccio ma sei un nab ma che nab scappare ma che nab è morto nonostante aveva lo scarro ma che nab che nab che nab è morto è morto è morto qualcuno però mamma mia spara più raffica della rafficosa infatti è quella e lo so però spara spara tipo molta raffica più raffica non so come fa ma camperone no che camperone metti una tracca che c'è mai ma godo ma magari gli spacca la mano ma magari gli spacca la mano ma magari gli spacca la mano ma hai lasciato è morto ma bravo Samir bravo è inutile ma me lo faccio vabbè 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 c'è scritto colpi otto colpi alla testa quattro distanza percorso un chilometro materiali raccolti 249 raga invito un mio amico però oh Samu Samu metti i passi pubblico non c'è chi sta giù con questo con il con il con il il con il con con il con il con il con con il cellulare e l'interfaccia che fai? argomenti siamo messi per il pubblico un attimo ma ecco questo ninja si sto facendo così quindi si dubbano anche per loro ciao mi c'è? ciao Squizzo? ciao Ogo mi è dato io abbandonato Squizzo ma sei forte ninja abbandonato è probabile che non ci no ho soltanto qualche tipo il triplo di top il doppio di Samuele ah no perché a me non mi ha messo bene perché pensavo che non voglio giocare con il mio Andrea ma a me mi ha fatto abbandonare ma rega venite tutti da me cioè nel senso tu come ti chiami? ninja ti chiamo ninja no? no Andrea si chiama Andrea e Andrea venite da me ci metti in vita si metti in vita ehm ehm sei forte quanto sei forte sei forte quanto ehm quanto mith? quanto ninja? quanto mongrand no raga sei come di quanto quanto sei forte sei forte? raga venite tutti raga venite tutti nella mia lobby e se non mi vieni di come raga venite nella mia lobby raga venite nella mia lobby raga venite nella mia lobby Allora Samuele c'è paio Samuele c'è ragazzi non presto siamo in ah squad metti squad 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 dai ragazzi scusate dei problemi di trasmissione ma purtroppo è così vabbè adriana che si giochi a io la d'inizio della season 1 ragazzi iscrivetevi anche al canale di samuel qui in samu trovate tutto sul link in descrizione ragazzi ragazzi non fa ancora nessun video perché è di non ancora capire come si fa votate il vostro idolo e mettete nei commenti in più forte da di noi sì sì il duo camperandola solo sono camperandola sono camperandola e ragazzi nei commenti scrivete che è il vostro idolo fra sanlu e jimbo che avete visto prima e adesso vedrete anche l'azione cosa e andrea come cioè ghost ninja ma qui qui preferi a stellare cioè le stelle più cosi andiamo a picco andiamo a picco 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 c'è il robot pure a me non mi piace siamo uno e due andiamo a distruggere il robot c'è la ma da dove, da dove, no ma anche no ti dico io, ma anche no pura figata Io vedo, vado su, tegnami alle funglie. Proprio. Sto vedendo. Sto vedendo alle coccole, mettendo le coccole. Sto vedendo. 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 io non sto in partita no io no no io sto in partita dai io io non lo faccio e io non lo faccio io non lo faccio e io non lo faccio and it was sold to my youth and i'm not a baby i don't like Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.